Saranno accolti inizialmente presso il lab dell'ospedale del mare, poi trasferiti presso i centri di accoglienza sui territori. La città di Napoli lavora al piano di accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina. Il tema è stato al centro di un incontro questa mattina in prefettura, cui ha preso parte anche il sindaco Gaetano Manfredi. Abbiamo già attivato con l'assessore trapanese il punto di Mare Chiaro, che sarà subito a valle del lab di prima accoglienza. Insieme poi alla Caritas e tutte le organizzazioni laiche e religiose abbiamo messo in campo una rete di accoglienza in città che consentirà ai rifugiati che vengono dall'Ucraina e che non possono sistemarsi presso parenti o case private che li ospitano di avere un posto sicuro e l'accoglienza da parte della città. Una prima struttura è già stata individuata dalla Regione ed è la struttura del Covid Hospital che già aveva ospitato l'accoglienza afghana. Da lì poi, in base alle strutture che abbiamo individuato, alcuni posti CAS già sono stati individuati, stiamo continuando, verranno distribuiti a secondo, in qualche modo, se ci sono collegamenti familiari con persone già presenti sul nostro territorio.